Tornare al voto, questa è la cosa fondamentale, domani mattina il prima possibile è questo voto, così tanto anni che ci ha spiegato che vogliono tornare a decidere il loro futuro. Per cui bisogna tornare al voto e questo non è che vuol dire che corriamo tutti assieme il fronte del no, le persone hanno dei seri problemi legati all'welfare. Qui bisogna che almeno il programma che sarà della lega e chiunque corre con la lega nord sarà prima gli italiani, perché bisogna mettere delle priorità e le priorità ora devono essere gli italiani, non possiamo avere le nostre persone che non arrivano a fine mese, che non hanno la casa, no no no, è quello che fanno altre mille nazioni, quello che non hanno fatto i governi tecnici finora e il risultato infatti è stato questo no, perché la gente vuole delle risposte, la gente vuole il lavoro, noi abbiamo i giovani che se ne vanno, quando i risultati sono i governi finora correnti, come lo creiamo questo lavoro, come facciamo pagare le tasse? Il lavoro si fa facendo rimanere qua le persone, incentivando gli italiani a aprire qua, non incentivando gli stranieri che si vanno a controllare.